Sul mondo della scuola come sulla sanità siamo di fronte a un tentativo di tagliare risorse e personale alle regioni del sud. Questa è la sostanza. Dobbiamo sapere che il tentativo di riforma cosiddetta della scuola proposto dal governo Meloni significa per il sud tagliare classi, tagliare personale docente, tagliare personale non docente. La posizione della regione campania è che non solo non intendiamo accettare nessuna riduzione né di classi, né di scuole, né di personale, ma riteniamo che si debbano dare ancora più risorse per la scuola del sud per valorizzare il corpo docente, per contrastare la dispersione scolastica, per fare in modo che le nuove generazioni possano essere educate. Perché se crolla anche il mondo della scuola faremo fatica davvero ad avere rapporti con le giovani generazioni. C'è un pericolo gravissimo per la scuola come per la sanità. Non si parla più in Italia di scuola pubblica e di sanità pubblica. Questi del governo hanno in testa altri modelli di sanità privata e di scuola privata. La scuola pubblica è essenziale per garantire il livello di civiltà e di unità nazionale nel nostro paese. Dunque combatteremo fino alla fine contro questa ipotesi di modifica proposta dal ministro Valditara. Intanto la regione Campania combatte su questa linea. Neanche una scuola in meno, neanche una classe in meno, neanche un docente in meno, neanche un euro in meno per il sud. Voglio vedere che cosa dirà il governo Meloni. Su questi combattimenti, al di là delle critiche che ci sono state, lei ha avuto un colloquio con la Schlein. Avete trovato una strada di condivisione su certe battaglie che vanno portate avanti? No. Nessuna strada di condivisione su nessuna sua opinione? Dobbiamo ancora cominciare il lavoro. Ma io mica devo condividere, io non devo condividere con nessuno. Noi facciamo la nostra battaglia. Sono gli altri che si devono adeguare a quello che fa la Campania. E' chiaro? Allora, noi stiamo combattendo su questa linea. E verificheremo la coerenza di tutte le forze politiche, PD, PP, PL, tutti quanti, senza nessuna differenza. Chi sostiene questa battaglia è amico del Sud, è amico di De Luca che peraltro se ne infischia. Io posso vivere anche senza amici, mi basta la mia famiglia.